A partire da oggi, diretta dalla Chiesa dei Santi Medici di Ruvo di Puglia, del triduo in preparazione della ricorrenza dei Santi Cosme e Damiano, che la Chiesa ricorda il 26 settembre, la comunità ruvese è in festa. Il triduo di preparazione alla festa dei Santi Cosme e Damiano, che la Chiesa celebra il prossimo 26 settembre, è in corso a Ruvo di Puglia nella Chiesa dei Santi Medici. Dopo la novena alla festa, la comunità religiosa ruvese di tutta la diocesi di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi sta vivendo un appuntamento religioso importante e sentito. Nel rispetto delle norme anti-covid e delle direttive diffuse dalla diocesi legate alle misure restrittive per contrastare la diffusione del coronavirus, Don Giuseppe Germinario, rettore della Chiesa dei Santi Medici e Michele Pellicani, presidente della Pia Unione Santi Medici, hanno disposto che le celebrazioni si svolgeranno tutte in chiesa. Obbligatorio sarà indossare la mascherina e mantenere il distanziamento interpersonale. Le celebrazioni, dalle ore 19 a partire da oggi fino al 26 settembre, giorno della ricorrenza dei Santi Medici, saranno trasmesse in diretta su Teledeon, canale 18 del Digitale Terrestre. Non è solo una festa religiosa quella dei Santi Medici perché c'è anche un risvolto benefico. Il rettore e la Pia Unione intendono devolvere le annualità 2020 e tutte le offerte raccolte per la festa per due finalità. L'istituzione è di una borsa di studio in favore di due aspiranti studenti in medicina e una donazione in favore dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Sarà avviata anche una raccolta di generi alimentari.